Il giornalista, autore ed editore umoristico Dino Aloi ha donato al Consiglio regionale giovedì 7 aprile un'opera del padre Giuseppe Giovanni Aloi in arte Aloim, quale riconoscimento del profondo legame che ha unito il pittore alla città e al Piemonte. L'opera, datata a 1992, si intitola Vortici d'amore numero 6 e realizzata in tecnica mista su tela e misura 70 cm x 70. Sono felicissimo che il Consiglio regionale abbia accettato la donazione di un'opera di mio padre. Mio papà è stato un pittore importante, torinese, del periodo dell'Artotre e quindi come critico ho avuto principalmente Michel Tapie e la cosa che mi rende più felice collaborando da molti anni con il Consiglio regionale organizzando e curando mostre proprio per il Consiglio di poter in qualche modo poter fare qualcosa anch'io per il Consiglio. quello che potevo fare era dare un'opera di mio papà significativa, un'opera bella che ho voluto scegliere con mia figlia che in qualche modo rimanga in modo permanente e rappresenti il tempo e dia una testimonianza.